Finalmente nelle mie mani, Smart Band 7. Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Lorettec. Se ne parlava già da qualche giorno l'uscita della nuova Mi Band di casa Xiaomi. Arriva alla settima versione. Il vostro Lorettec l'ha comprata? In questo video vedremo l'unboxing del mio nuovo braccialetto, Xiaomi Smart Band 7. Ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito. Prima di cominciare con l'unboxing volevo farvi vedere la confezione. Allora qua abbiamo l'anteprima del nostro braccialetto con il quadrante, l'orologio e le varie funzioni. Xiaomi Smart Band 7, logo di Xiaomi, manuale e garanzia. Nella parte destra abbiamo supporto a più di 100 attività, resistente all'acqua, monitoraggio del sonno, ricarica. Dall'altra parte abbiamo un display full AMOLED, misurazione della saturazione, reach watch face, vedremo poi che cos'è. E' una durata prolungata della batteria. Nella parte posteriore abbiamo un po' di dettagli. Per ogni unboxing che si rispetti ci muniamo delle nostre forbici e le andiamo ad unboxare. Andiamo ad aprire la confezione in questo modo. Allora che cosa abbiamo? Qui abbiamo il nostro braccialetto, questo dovrebbe essere il caricabatterie. Sì, perfetto, esatto, questa è la parte magnetica con la scritta Xiaomi, USB A di colore nero. Qua dovremmo avere il libretto di istruzioni, esattamente, Smart Band 7, user manual. Ci dovrebbero essere tutte le lingue e per finire il nostro braccialetto. Qua ci do un'anteprima di come viene caricato il nostro braccialetto. Quando usi la Smart Band per la prima volta connettilo per poterlo ricaricare. Molti mi avete scritto nei commenti come faccio a caricarlo, mi arriva, scarico come devo fare. Ragazzi, caricateli sempre prima e dopo eseguite la prima installazione. Ecco il braccialetto, si presenta in questo modo. Questa è la clip di chiusura, nero in materiale, nero lucido. E questo è il braccialetto. Ecco, ve lo faccio vedere. Lo apriamo, così vi faccio vedere anche la parte posteriore. Ecco, si presenta in questo modo qui. Lo giro. Ecco qui abbiamo il logo Xiaomi. In nero lucido, nero opaco. Qua abbiamo la misurazione della saturazione e anche della pressione. Qua ci permette di caricare il nostro braccialetto in modo magnetico. Eccolo qua. Sono veramente entusiasta, non vedo l'ora di provarlo. Nel prossimo video vedremo l'installazione passo passo. Vi farò una guida su come installarlo, come configurarlo. A questo punto voglio sapere la vostra. Cosa ne pensate? Avete già acquistato un braccialetto di Xiaomi? Che versione avete? La 4, la 5, la 6? O avete già pensato di acquistare la settima versione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fare altro che salutarvi. Da Mi Band 7, Loro Tech era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!